L'interesse per questi viaggi della memoria è cresciuto negli anni. La prima volta che ho fatto questo viaggio è stato quasi per caso, anche se era qualcosa che doveva succedere per il semplice motivo che era un interesse che ho sempre avuto. Questo mi ha permesso di scoprire non solo gli aspetti storici ma anche gli aspetti umani, gli aspetti emozionali, gli aspetti emotivi da parte di tutti i ragazzi che ho avuto la fortuna di avere con me al viaggio. Abbiamo visto che i ragazzi reagiscono ognuno a modo loro, in maniera diversa, ma alla fine quello che viene fuori sono sempre le emozioni, le emozioni che lasciano spazio a un interesse, un interesse profondo da parte loro su tutto quello che è successo. Oltre che viaggi della memoria li chiamerei anche viaggi della conoscenza, non solo da un punto di vista storico come ho già detto, ma della conoscenza delle emozioni individuali e della scoperta, perché perché la vera scoperta è conoscere questi ragazzi con i loro pensieri e con le loro emozioni e con la speranza che questi ricordi durino per sempre, durino per tutta la vita.